di nuovo buongiorno ragazzi allora questa mattina voglio farvi un mega regalo un mega regalo perché nonostante fossero usciti due ambi e un bel terno ieri sera pochi di voi hanno diciamo raccolto questa mia tecnica mi rendo conto che anche devo fare un mea colpa perché vi ho presentato una tecnica non facile da seguire e quindi diciamo è una mia colpa ok allora giusto per farmi perdonare oggi vi regalo una tecnicuccia come la chiamo io piccina picciò dove vi da solo tre ambi secchi a due numeri quindi più stretto di così non si può da giocare per tutto il mese con una spesa visto che si gioca su due ruote di soli 6 euro ok quindi seguitemi bene così ve la spiego allora in qualsiasi estrazione del mese io ho preso il 3 aprile perché abbiamo appena finito quindi faccio come riferimento il 3 aprile ok però va bene per qualsiasi estrazione del mese allora si trovano due numeri uguali isotopi vuol dire nella stessa posizione in questo caso abbiamo preso milano e torino vedete abbiamo 75 ok e lo scriviamo qui il 75 quindi milano torino 75 ok ora di questo numero si fa il diametrale in decina il diametrale in decina vuol dire più 5 o meno 5 ma deve rimanere nella stessa decina per spiegarvi meglio in questo caso io devo rimanere nella decina del 70 quindi se io aggiungo 5 vado a finire 80 quindi non va bene quindi tolgo 5 meno 5 uguale 70 questa è la prima ambata ok la seconda ambata è la figura del numero principale quindi per calcolare la figura si fa 7 più 5 fa 12 1 più 2 uguale 3 questa è la figura del 75 ok quindi quello che dovremo giocare sono questi due numeri 75 3 70 e li giochiamo così 75 3 73 75 70 da giocare per tutto il mese su milano e torino ok andiamo a vediamo a vedere cosa è successo allora primo colpo eccolo è primo colpo a milano ambetto ok a torino nulla secondo colpo a torino è uscito il 4 però non ci interessa niente terzo colpo a milano nulla a torino nulla ve l'ho detto questa è una tecnica che va portata avanti per tutto il mese quindi mi raccomando e mi raccomando è milano nulla torino eccolo qua eccolo qua al quinto colpo 3 e 70 ambo secco va bene spero di essere stata esauriente e di di che questa tecnica vi possa piacere ovviamente per eventuali domande potete venire o me lo chiedete qui oppure su forza lotto su facebook ok vi aspetto ciao 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 ciao